Nel momento di rabbia, l'uso di sostanze e qualche problema psichiatrico. Il piano fallito per fuggire all'estero di Gian Davide De Pao, per questo aveva cercato un passaporto falso. Siamo di fronte al carcere di Regina Ciolli dove è previsto l'interrogatorio di garanzia di Gian Davide De Pao. Il PM chiederà la convalida del fermo, il reato che gli viene contestato è triplice omicidio aggravato. Non ha risposto perché dopo le sette ore in questura non gli andava ad aggiungere altro, non doveva aggiungere altro, era molto confuso. Si è avvalso una volta da rispondere, l'interrogatorio è finito così. Il giudice ovviamente ha convalidato l'arresto. Era anche in cura per son certe, per disintossicarsi dalla cocaina. È un quadro particolare, quello di Gian Davide De Pao, insomma anche molto complesso. È un problema che prima o poi ci dovremmo correre, di trovare un reparto, un istituto penitenziario adeguato per le sue condizioni psichiche. Sono sincera, siamo distrutti da mamma e basta, posso dire solo questo, anche perché vedete quello che si affronta poi, no? Io mi aspetto che qualcuno lo cure. Buongiorno e ben ritrovati con Storie Italiane e dunque i video dei primi due delitti nel telefonino del killer. Questa è la novità, sono 56 minuti di orrore. Giovanna Sabini collegata con noi, Giovanna, buongiorno. Buongiorno Eleonora, eccoci siamo a Regina Celi, ci troviamo proprio vicino all'ingresso dove i familiari vanno a incontrare i detenuti e dove ieri dopo la convalida del fermo abbiamo incontrato Francesca, la sorella di Gian Davide De Pau che portava al fratello un accappatoio e dei vestiti e appunto era qui con noi per cercare di capire quali erano gli ultimi sviluppi, se il fermo sarebbe stato convalidato o meno e siamo stati proprio noi a darle questa notizia. Come dicevi tu, sono emersi dei particolari ancora più raccapriccianti, veramente sembra l'ultimo capitolo di un romanzo criminale moderno. Nessuno si aspettava ieri pomeriggio quando abbiamo letto l'ordinanza 21 pagine che Gian Davide De Pau addirittura aveva filmato con il suo telefonino, che sono quei drammatici minuti, 56 minuti di orrore, ci sono due video che sono stati acquisiti agli atti, il primo di 14 minuti e l'altro appunto di 42 minuti che raccontano quella mattinata di follia e di orrore proprio nel dettaglio. Dunque allora sentiamo la telefonata dopo aver commesso questi tre omicidi, poi sarebbe sospettato Giovanna anche di averne compiuti altri casi risolti, adesso ne parleremo in particolare uno, qui c'è Davide Esario che è il direttore di Leggo che ci aggiornerà veramente su quanto sta accadendo ma soprattutto su questo ulteriore possibile altro omicidio e caso irrisolto. Dunque dopo aver commesso i tre omicidi Gian Davide De Pau ha telefonato alla sorella che è preoccupata di quello che aveva detto il fratello chiama subito i carabinieri. Ascoltiamo la registrazione del 112. Pronto? Buongiorno, senta io sono la sorella di Gian Davide De Pau, allora le spiego, mio fratello che è sparito da ieri sotto l'uso di sostanze, completamente fuori di testa, una persona che non sta bene quando fa uso di sostanze e l'ho sentito questa notte, è riuscito a trovare un telefono perché ha il telefono spento da ormai un giorno e mezzo e farfugliava di donne uccise, di sangue, di coltelli e di cose varie e io mi sono sentita di chiamarvi. E che le ha detto signora? Mi ha detto perché c'era sangue, perché quella stava sul letto, perché poi c'erano i servizi segreti, perché poi lui diventa matto quando fa uso di sostanze, dice c'era sangue, non so se sono stato io, io non mi ricordo niente. Ma professoressa, com'è possibile che già c'è una persona malata, dice la sorella malato psichiatrico, in più che fa uso di sostanze praticamente quest'uomo girava a piede libero? Una bomba, con dei precedenti non da poco, era legato a importanti clan camorristi, insomma i senesi, quindi era un caso che non poteva essere lasciato così, in giro per le nostre strade, perché è una persona che ha dei precedenti penali importanti legati a clan particolari, che ha dei problemi psichiatrici, che fa uso di sostanze e sicuramente chi lo deve sapere lo sa, allora insomma bisognava come dire aspettarlo, chissà quanti ce ne sono in altri. Allora adesso sentiamo, adesso arrivo subito dagli altri ospiti, perché noi abbiamo questa testimonianza della sorella, la mando in onda, mamma e sorella che hanno denunciato il fratello in tutte le maniere, e però nessuno le ascoltate queste due donne, sentite. Tanto per cambiare. Mamma, non piange, ma dai, poi arrivo a casa e sto con tutti, dai. Oi! Ciao mamma, aspettami, ciao. Non c'è niente da dire, è una storia realmente grande, c'è un sospetto realmente grande, non so se oggi è convalidato il fermo. Convalidato, però posso dire... Io sono sincera, siamo distrutte da mamma e basta, posso dire solo questo, anche perché vedete quello che si affronta poi, no? Io mi aspetto che qualcuno lo cure. Una persona normalissima, nei momenti normali, erano molto male, nei momenti di rabbia poteva essere l'uso di sostanze, qualche problema psichiatrico. Dura, eh? Comunque non lo molli tuo fratello, cioè gli continuerai a stare vicino. Vorrei essere umano se lui vorrà vedermi. Un essere umano io gli porterò i vestiti, gli porterò le cose, lo mandano lontano, non lo so, gli manderò i vestiti, gli manderò le cose, perché è un essere umano malato, per giunta. È sempre tuo fratello? È mio fratello. C'è qualcuno che vi poteva aiutare in questa situazione? Che cosa pensi? Che fai? Sono persone grandi che fanno quello che vogliono. Che fai? Mi viene da solo? Da persona di armi? Un appartamento così lussuoso, come faceva a cavarlo? Come faceva a cavarlo? Questo è un appartamento del quale mi voglio da cavare, per la minore al suo. Mamma ha sofferto tanto perché sto figlio, immagino. Abbiamo capito che sta ad un'anima al telefono, cosa fa che lo pregiudiziate? Io adesso ho preso compito. Il dolore che provo io va messo da parte. Ecco, mia madre, nostra madre, ha sofferto tanto per questo figlio nel corso degli anni, hanno provato a fare di tutto, ma non ci sono riuscite. Dice, adesso quello che provo io lo mettiamo da parte, domani gli porterò le coperte, non so se mi vorrà parlare, ma queste sono la testimonianza, importantissima testimonianza, di questa sorella. Sorella e madre, tutte e due che hanno capito immediatamente quello che era successo, dalle prime notizie ai telegiornali di due ragazze senza vita, trovate uccise in quella maniera, orribile e avevano già capito che probabilmente era stato il fratello, il figlio, professoressa Parsi e poi dei casi probabilmente irrisolti. Adesso ne parleremo. Può essere stato lui. Io vorrei lanciare soltanto un messaggio. Questa persona, che evidentemente stava molto male, perché il discorso non è che lo dobbiamo curare ora, lo dovevamo curare prima, è vissuto in un ambiente in cui ha incamerato tanta ingiustizia, illegalità, ha visto strade particolari, ha assunto droghe, ha incamerato orrore. Questo orrore l'ha tenuto dentro fino a quando, di nuovo, assumendo droga, probabilmente l'ha messo in scena. Addirittura ha registrato, cioè un film dell'orrore che tu vai a registrare. Quindi una parte di te vuole mantenere le immagini di questo orrore da dentro a fuori. Allora, io credo che in situazioni come queste si possono, anzitutto, scusate, facciamo appello alla prevenzione, perché per arrivare a questo c'è una lunghissima strada prima che si arrivi a una situazione di questo genere. Perché durante questa strada non c'è l'accortezza seguendo le famiglie, questo vale per tutti, non vale solo per questo, attenzione, si dirà una cosa mostruosa. Monstrum è una parola latina che significa mostrare, anzi, avvertire, dare un avvertimento. Attenzione che questo è un avvertimento, è monere, è educare all'avvertimento. Questo è un avvertimento. Ma noi ci stiamo rendendo conto che da inizio anno, all'inizio di questa stagione, ma anche tanto l'anno scorso, la scorsa stagione o l'anno scorso, non stiamo parlando d'altro che di casi di questo tipo. Hai ragione. E questa tendenza psichiatrica purtroppo è dovuta, questa caduta, troppo spesso è dovuta a sostanze psicotrope, a cocaina, cioè diciamo, chiamiamola col loro nome, è la cocaina che sta alla base sette, otto volte su dieci di molti, molti delitti. Però io non vorrei, perdonatemi, passare l'idea che siccome questo era drogato, allora ha l'attenuante. No, no, no. Perché la droga è un aggravante, non è un aggravante. È un aggravante, assolutamente. Vladimir, attenzione, perché sennò poi dopo i processi, già li vediamo come vanno. Io ricordo benissimo l'intercettazione quando De Pau era con il clan dei senesi in cui si vantava di poter procurare morti. Io posso fare tante morti. Io penso che lui abbia goduto, abbia tratto piacere nel procurare la morte a queste donne proprio mentre aveva un rapporto sessuale. Esiste purtroppo una parafilia, una perversione. Esattamente. C'è anche in alcune, diciamo così, filoni di film erotici, si chiamano Snuff Movies, in cui, in maniera finta comunque, viene inscenata una scena in cui delle persone fanno sesso con delle donne uccidendole. Io penso che quest'uomo che abbia voluto filmare per quasi un'ora queste morti sia una persona che ha questo tipo di parafilia. Attenzione, non c'è stata solo una fiction, ci sono stati anche casi in tutto il mondo di persone che hanno già fatto questo tipo di torture, che hanno filmato. Quindi è vero che la droga può aggravare certe situazioni, però era dentro di lui già prima quando diceva io posso fare tante morti. Quindi lui si vantava di sentire questo potere di poter uccidere. Però ci rendiamo conto di una cosa. Allora noi abbiamo una persona che ha dei precedenti penali molto importanti. Sì, è stato anche condannato già per aggressione fisica. Abbiamo delle intercettazioni che dice certe cose. Ha scuartato l'occhio di una per più un uomo. È già in cura per i suoi problemi psichiatrici. Allora, è possibile che non c'è un attenzionamento da parte delle forze dell'ordine su questo soggetto e questo soggetto può tranquillamente acquisire e assumere sostanze stupefacenti e alterare ancora di più evidentemente uno stato di massima violenza. Io lo trovo veramente assurdo. Cioè in questi casi, quando qualcuno viene fermato perché assume delle sostanze stupefacenti, viene segnalato in prefettura. Cioè c'è un elenco di assuntori di sostanze stupefacenti. Dopodiché ci dovrebbero essere anche altri passaggi. Allora, se questo qui non solo assume sostanze stupefacenti, non solo è in cura da uno psichiatra, ma è anche un personaggio legato a clan camorristici dove le intercettazioni dicono mi posso procurare tante morti e non succede nulla. Cioè, o meglio, aspettiamo che succeda qualcosa e scopriamo tutto questo? A me sembra abbastanza assurdo. Adesso, adesso, che cosa si è visto? Che queste due donne, e poi purtroppo anche la terza, sono state uccise non in una maniera, diciamo, improvvisata, sono state uccise tutte con un modus operandi abbastanza simile, sono state sgozzate. Cioè, qualcuno che fa questo è qualcuno che sa uccidere ed è per questo che adesso stanno andando a rivedere alcuni casi irrisolti a Roma perché con le stesse modalità nel 2012 è morta una donna a Roma. mi sembra Laura, adesso non ricordo il cognome. Giovanna, qual è il caso a cui sta facendo riferimento il nostro direttore? Qual è il caso irrisolto che stanno cercando di capire gli inquirenti proprio per vedere se le modalità, anche la ripresa, ad esempio, col telefonino. Se in quel telefonino si troverà altro o in altri telefonini che lui ha a casa, in computer. A te, Giovanna. Sì, Eleonora. Allora, i casi sono diversi, ce n'è più di uno, però uno in particolare che risale a circa 11 anni fa sull'Ardiatina una donna, una giovane donna, una prostituta nigeriana, era stata appunto uccisa con un coltello, quindi con un'arma da taglio e poi anche successivamente mutilata. E appunto era rimasto un delitto irrisolto che probabilmente potrebbe anche essere ricondotto a Gian Davide De Pau. Un uomo che il GIP ieri ha definito privo di freni inibitori. Ieri quando il pubblico ministero ha provato durante l'interrogatorio di garanzia a fargli ascoltare l'audio di quei video che lui stesso aveva registrato, lui si è messo le mani alle orecchie e si è rifiutato di ascoltare quell'audio e poi si è abbalso appunto della facoltà di non rispondere. Adesso è sottoposto ad un regime di sorveglianza strettissimo, è sorvegliato a vista 24 ore su 24 appunto qui nell'infermeria del carcere di Regina Celi. Grazie. Allora, adesso arriviamo subito perché racconteremo tutto quello che è successo ieri, parleremo di questi casi irrisolti ma soprattutto di questo video lunghissimo, 58 minuti, di un video dove è stato filmato l'orrore. Pensate, ieri gli inquirenti si sono trovati davanti a tutto questo materiale con lui che all'inizio dice ah, io non mi ricordo niente, blackout, ho vagato per due giorni e invece probabilmente lui sapeva benissimo, non è vero che non ricordava nulla, che aveva ripreso tutto e chissà quante altre volte l'aveva fatto. Allora, fermiamoci un secondo. Andiamo da Laura Tangherlini. Andiamo da Laura Tangherlini.